Cosa pensiamo quando pensiamo della nascita di Gesù? Io ho dei ricordi bellissimi quando ero bambino, era un momento veramente speciale. Certo, parlavamo della nascita di Gesù, ma il mio pensiero era più verso i regali. Poi ci spiegavano, ma perché diamo i regali? Perché Dio ci ha dato il regale più grande nella vita del suo Salvatore. E per questo motivo possiamo anche dimostrare amore l'uno verso l'altro, in questo periodo, non per nascondere il vero significato di Natale, ma per ribadire il fatto che Dio veramente ci ha dato un dono molto grande, suo figlio. Quando riflettevo in questi giorni sul Natale, pensavo di un tema per oggi, guardando a Natale, e dando a tutti noi l'occasione di riflettere sulla nostra reazione alla notizia che è nato il Cristo. E' nato il Cristo. Quando nominiamo Gesù nel posto di lavoro, alla scuola, negli amici, è sempre motivo subito di divisione. O ci credi o non ci credi. E' così anche oggi. Il nome di Gesù fa la stessa cosa, quando parliamo di Gesù. Così è fatto nel momento della sua nascita. E dovremmo tornare un attimo nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 2, e vorrei leggere il racconto della reazione delle prime persone che hanno sentito di questa nascita. In Luca 2, cominciando con il versetto 8. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro grece. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendè intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un salvatore. che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno, troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E in un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e vedetelo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria servava in sé tutte queste cose meritandole in cuor suo e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunziato. Padre chiediamo in questi momenti che guardiamo la tua parola che lo Spirito tuo possa guidarci che possa comprendere di più il significato dell'avvenuto del nostro Salvatore e che la nostra reazione possa essere quella giusta di ringraziarti dandoti anche la nostra vita. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Qui troviamo un brano intitolato L'adorazione dei pastori i pastori. Pensate di questi uomini cosa facevano? Allevavano le pecore senza altro pecore non tanto destinato agli erosticini ma destinato al Tempio al sacrificio del Tempio che a Gerusalemme non era molto lontano e a un certo momento viene annunciato a loro da un angelo che era venuto il Salvatore era nato il Salvatore perché avevano paura infatti parlavamo di questo in carcere questa settimana un detenuto ma perché avevano paura? Perché da 400 anni Dio non si era fatto sentire da 400 anni Dio non parlava più col suo popolo e qui all'improvviso vedono davanti a loro un angelo che annuncia queste grandi notizie notizie della venuta del Salvatore la nascita del Salvatore la gloria del Signore un altro motivo per paura la gloria del Signore risplende intorno a loro di notte e subito questa luce grandissima intorno a loro io avrei avuto paura non lo so voi paura ma subito l'angelo risponde come ha fatto Gesù dopo quando Gesù dimostrava la sua potenza camminando sul mare avevano paura dice Gesù qui l'angelo dice a loro non temete non temete perché vi porto la buona notizia questa è la nostra parola al Vangelo buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è il Cristo il Signore questo era l'adempimento di una promessa che loro avevano aspettato da secoli la venuta del Messia è venuto il Messia quindi questi pastori dimostrano grande fede col sacrificio dell'adorazione infatti sono andati ad adorare lui ma lasciando via il loro lavoro lasciando le pecore lì in mezzo alle colline per andare a trovare Gesù anche nel loro tempo hanno offerto al Signore la notata che magari erano adagiati lì accanto alle pecore invece con fretta si sono alzati per andare a vedere Gesù mi chiedo noi di noi quando noi abbiamo sentito la notizia di Gesù che era per noi se noi eravamo pronti a lasciare tutto per seguire lui per trovare lui per conoscere lui qui troviamo una grande dimostrazione di fede questi pastori che lasciano tutto per andare a trovare Gesù come una reazione positiva c'è anche negativa e qui troviamo la gelosia di Erode che viene in seguito ad un altro grande atto di fede che vedremo in seguito ma quando Erode sente da questi rimagi questi uomini che erano venuti da lontano dalla Babilonia erano venuti per trovare Gesù perché da una distanza così grande sicuramente questi uomini e non dice che erano tre non sappiamo quanti erano erano astronomi non astrologi cioè loro studiavano le stelle e erano molto studiosi ma vivendo in quella parte sicuramente avevano conoscenza delle scritture e particolarmente la profezia di Daniele che aveva profetizzato che 490 anni dopo il decreto di ricostruire il Tempio sarebbe stato rivelato l'unto dell'Eterno il Messia e loro con grande sacrificio fanno questo viaggio e arrivano là e quando chiedono informazione ma dove è questo re nato e dove vai a chiedere informazione dal re magari c'è un bambino in casa e vanno a bussare ma erano dicendo ma quale re sono io il re quale re e poi pensando e scavando nella profezia scoprire che doveva nascere a Betlemme quindi vanno a Betlemme e Erodi dice andate trovatelo dopo quando l'avete trovato tornate a dirmelo perché anche io voglio andare adorarlo e cresce il naso come Pinocchio in questo momento anche io voglio andare no lui voglio andare a ammazzarlo e così invece l'angelo del Signore ha avvertito loro di non tornare per quella strada perché questa reazione di gelosia da parte di Erodi perché lui era il re ma non era cioè era un pupazzo dei romani non è che lui comandava tanto però lui aveva questo titolo re io sono re Giva ma questo bambino chi è non regnerà mai sopra di me sono io il re e qui vediamo un'altra reazione quando parliamo di Gesù quando riflettiamo sulla sua nascita l'incarnazione di Dio qui sulla terra c'è qualcuno che dice no io sono re della mia vita io non mi inginoccherò mai a quel re e così spende tutta la vita in ribellione respingendo l'invito a questo re che è nato perché 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 dicono io sono padrone della mia vita io sono padrone del mio destino e non avrò nessun altro re fuori di me così dice la gente che rispecchia il pensiero di Erode una gelosia così forte che gli ha spinto anche a omicidio uccidendo tutti i bambini maschi in tutta quella zona di Bethlehem e la Galilea in quella zona dai due anni in giù e questo ci dà una piccola indicazione anche al fatto dell'avvenuto dei dei rei magi sono arrivati dopo non la notte di Natale infatti noi per seppi abbiamo messo proprio all'angolo più lontano i rei magi perché loro non c'erano la notte di Natale anzi non sappiamo quanto tempo dopo però se Erode ha decretato la morte dei bambini di due anni in meno vuol dire che era passato il tempo e poi c'è un altro fatto interessante la storia ci dice che Erode è morto Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo quindi il nostro calendario ha sballato per circa 5 anni perché sappiamo che quello è avvenuto dopo la sua morte dopo che Gesù era stato portato lì in Egitto dopo che i rei magi erano arrivati quindi è probabilmente Gesù sia nato 5 o 6 avanti Cristo Erode erode la sua reazione con odio con gelosia dicendo no questo bambino non regnerà sopra di me e poi allacciato a questo troviamo il discorso degli rei magi questi uomini che hanno dimostrato tanta fede basandosi sulle profezie basandosi su questa cosa che noi non riusciamo a spiegare questa stella questa luce che hanno seguito hanno lasciato tutto e hanno fatto un viaggio da Babilonia fino a Bethlehem la strada è lunga anche oggi è pericolosa ma era pericolosa anche a loro per loro di fare questa strada una strada lunghissima quindi un sacrificio del tempo loro hanno lasciato famiglie per arrivare là un sacrificio dell'adorazione che sono andati a lui portando anche dei doni 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 di grande valore di grande costo non spiccioli che avevano trovato per strada hanno preparato un dono particolare per questo reinato interessante guardare anche questi tre doni oro incenso e mirra oro ci parla della regalità del fatto che Gesù era re nato il re oro era qualcosa di riservato veramente per i potenti per i ricchi quindi Gesù il re e portano oro incenso 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 che veniva usato nel tempio veniva bruciato nel tempio quindi erano i sacerdoti che accendevano l'incenso quindi profeticamente qui vedevano questo bambino il sacerdote poi sarebbe stato l'ultimo sacerdote per il suo popolo sappiamo tra gli ebrei che per molti secoli c'erano dei sacerdoti sommi sacerdoti che morivano venivano sostituiti ma poi dice è arrivato Gesù lui è il nostro ultimo sacerdote che per sempre vive per intercedere per noi quindi incenso per questo grande e finale ultimo sacerdote è mirra mirra era una sostanza che veniva usata per ungere i corpi per la sepoltura e così questi uomini danno una profezia anche per la fine di questo bambino la morte che lui come il nostro redentore avrebbe fatto per noi dando la sua vita per noi sulla croce non proprio nel periodo di Natale ma dopo qualche anno quando Gesù ha cominciato il suo ministero c'era un gruppo di uomini religiosi che lo odiavano noi questo Gesù non accettiamo perché rischiava loro rischiavano di perdere potere sopra il popolo e Gesù ha avuto molti conflitti di questi uomini questi religiosi e la loro critica di lui fu fatta in modo molto ma molto personale ma una critica che risaleva proprio alla sua nascita in Giovanni 8 troviamo Gesù in un incontro con questi uomini religiosi Giovanni 8 41 poco prima Gesù aveva detto se foste figli di Abramo perché loro si vantavano di essere figli di Abramo Gesù se foste figli di Abramo dice fareste le opere di Abramo Abramo che ha fatto Abramo ha dato la decima al re di Salem Melchizedek che non era altro che la personificazione di Cristo preincarnato preincarnato ma ora cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità che ho udito da Dio Abramo non fece così voi fate le opere del padre vostro cioè Satana e se gli dissero noi non abbiamo noi non siamo nati da fornicazione abbiamo un solo padre Dio Gesù disse loro se Dio fosse vostro padre mi amereste perché io sono proceduto e vengo da Dio infatti io non sono venuto da me ma è Lui cioè Dio che mi ha mandato quindi Gesù qui parlando della sua venuta della sua incarnazione dice io sono venuto dal padre sono nato dal padre dice loro invece nella loro incredulità quando mai un bambino nasce da una vergine per la loro incredulità dicevano no tu sei figlio della fornicazione e Gesù ha portato questa accusa tutta la sua vita da parte di persone religiose che lo volevano minimizzare lo volevano scansare quindi questi religiosi increduli perché non volevano che Gesù prendesse potere sopra di loro sulla loro religione dicendo egli non è Dio quindi non ha nessun diritto sopra di noi e penso che ci sono anche delle persone oggi che dicono ma chissà se è veramente nato dalla vergine chissà come è nato Gesù e quindi se non sappiamo come è nato come possiamo dire che è Dio come possiamo allora dire che noi dobbiamo qualcosa a Lui che dobbiamo sottometterci a Lui questa è la risposta a molti religiosi quando parliamo di Gesù della sua venuta la nascita del Messia invece troviamo in Luca 2 un altro racconto di altre due persone che hanno dimostrato veramente molta fede in Luca 2 dove portano Gesù bambino che aveva compiuto otto giorni otto giorni lo portano al tempio per la circoncisione Betlemme non era molto lontano da Gerusalemme quindi fanno questo piccolo viaggio arrivano a Gerusalemme e vorrei cominciare con il versetto 25 di capitolo 2 del Vangelo di Luca vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simione questo uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele lo spirito santo era sopra di lui egli era stato rivelato dallo spirito santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore egli mosso dallo spirito andò nel tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge l'ho preso in braccio e benedisse Dio dicendo ora mio Signore tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparato dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si diceva di lui e Simeone li benedisse dicendo a Maria madre di lui ecco egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano svelati vi era anche Anna profetessa figlia di Fanuel della tribù di Aser era molto avanti negli anni dopo essere vissuto col marito sette anni dalla sua virginità era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere sopraggiunto in quella stasora anche lei ludava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme qui troviamo due credenti tutti e due avanti negli anni che avevano vissuto tutta una vita in attesa del Messia sperando nella loro vita di aver visto l'avvenuto del Cristo e quindi stavano nel tempio stavano lì intorno al tempio pregando digiunando in attesa in attesa dimostrando con sacrificio dell'adorazione e la sottomissione alla bontà di Dio che avevano veramente creduto in lui Simeone dimostra grande sottomissione alla bontà di Dio perché lui dice Signore tu sai che da tutta la vita ti sto pregando di allungare la mia vita fino al momento di vedere Cristo l'ho visto quindi portami via sto bene che fede io penso che noi magari diciamo al Signore se potessi arrivare a sposarmi se potessi arrivare a avere figli se potessi arrivare a avere nipoti però quando arrivano i nipoti non è che siamo pronti proprio ad andare via vogliamo aspettare che si sposino i nipoti vogliamo aspettare che i nipoti hanno dei bambini che hanno pro nipoti e poi troviamo sempre il motivo di restare ma questo uomo di grande fede aveva chiesto a Dio solo una cosa di poter vivere fino al punto di vedere il Messia e quando fu rivelato lui che aveva veramente visto il Messia che Gesù era il Messia senza aggrapparsi alla vita senza dire Signore i miei anni sono ancora pochi no ha detto Signore sono pronto portami via i miei occhi hanno visto il Salvatore poi hanno volevo anche dire col Simeone due due aspetti della sua profezia qui guidate dallo Spirito di Dio ha riconosciuto Gesù come come la salvezza come la luce di illuminare la gente come la gloria del popolo di Israele ha riconosciuto Gesù come Messia e poi ha detto una cosa che a noi sembra molto strano forse che parla anche della morte di questo bambino io penso che quando andiamo a visitare una famiglia che ha un neonato parliamo di tutto tranne la futura morte di quel bambino invece qui dice a Maria ecco egli cioè Cristo è posto a caduta e al rialzamento di molti in Israele di nuovo il concetto che il nome di Gesù divide le persone sappiamo tanti dalla nostra esperienza da quando abbiamo conosciuto Gesù come Signore nella nostra vita abbiamo conosciuto il suo perdono abbiamo capito che Lui è veramente Dio abbiamo creduto in Lui che Lui è morto per noi da quando abbiamo fatto questo passo di fede non è più la stessa cosa se viviamo in una casa di non credenti che viviamo sulle lunghezze donne diverse e così Gesù serve motivo di divisione di caduta e di rialzamento di molti di condanna per chi non crede di salvezza per chi crede poi come segno di contraddizione che Dio avrebbe mandato suo figlio per condannare e anche per salvare allo stesso momento infatti il Vangelo la parola di Dio dice arriva sempre a compiere il suo scopo per chi crede il Vangelo salva ma per chi non crede il Vangelo condanna condanna e poi a Maria dice e a te stessa una spara trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano svelati qui parla della croce parla di Maria che sta davanti alla croce e mentre uccidono suo figlio lei si sente da morire io penso che per i genitori non c'è un dolore più grande che di avere un figlio che soffre e per Maria che vede morire suo figlio in croce affinché i pensieri di molti cuori siano svelati quante persone hanno mangiato i panini con Gesù i pranzi gratis quante persone hanno goduto la guarigione quante persone hanno trovato gioia nel stare insieme nel ascoltare lui che parlava quante persone ma la croce la loro finzione la loro falsità fu rivelata che non c'erano così la croce rivelava anche la falsità e anche noi vediamo la croce come motivo di di visione di rivelare veramente quale cosa c'è nel nostro cuore crediamo veramente che Gesù è morto per noi o la croce rimane per noi un simbolo di qualche cosa che non abbiamo capito la croce divide la croce divide rivela i pensieri di molti cuori la falsità la finzione viene rivelato da queste religiosi che alla fine hanno ucciso hanno costretto i romani di uccidere Gesù e poi c'è Anna quest'altra sorella in fede molto anziana se noi consideriamo che le ragazze erano in quella cultura e le ragazze a 15 anni si sposavano molto giovani lei aveva vissuto sette anni con il marito dalla sua virginità si era sposata aveva vissuto con il marito per sette anni e poi lui era morto e da tanti anni lei vive da sola è arrivata a 84 anni ma in questi anni di essere vedova ha passato il suo tempo piangendo sulla sua disgrazia piangendo su come Dio è stato infedela a lei sulla perdita di questo uomo no lei questi anni ha investito nel tempio pregando digiunando dimostrando la sua fede e la sua attesa del del messio e così anche lei ha avuto la gioia di essere presente lì pensate che se quel giorno avessi detto ma le osse io sono stanco non ce la faccio oggi andare lì al tempio avrebbe mancato un appuntamento bellissimo di aver visto Gesù quante di noi certe volte lasciamo le circostanze le tristezze i dispiaceri anche le piccole cose che ci capitano quante volte lasciamo quelle cose a riempirci di avere la gioia di ascoltare la parola di Dio lei quel giorno era presente con gli acciacchi che aveva 84 anni e ha avuto la gioia di vedere Gesù non ha mancato l'appuntamento quindi per noi è un grandissimo esempio di fede questa donna che lo dava Dio e poi dice che lei parlava di lui con tutti una volta che l'ha visto non è che vabbè me lo tengo no no lei rendeva testimonianza agli altri del fatto che aveva visto il Cristo parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme pensate che gioia quel giorno al tempio tutta la folla quando si sparge notizie ma abbiamo visto oggi il Messia allora abbiamo visto diversi esempi di persone che hanno avuto la notizia della nascita del Cristo bisognerebbe però prima di chiudere chiedici tutti quanti una domanda ma qual è la mia reazione quando sento parlare di Gesù della sua nascita sono pronto ad abbandonare tutto per seguire lui per credere in lui per testimoniare di lui o vedo lui come una minaccia alla mia libertà al mio potere di essere il padrone della mia vita vedo Gesù come una minaccia qual è la nostra reazione la parola di Dio è chiara se noi riconosciamo in Gesù Cristo il nostro Salvatore colui che ha dato la sua vita per noi se noi chiediamo perdono ravvedendoci dai nostri peccati capendo che Gesù ha preso i nostri peccati sulla croce se noi crediamo a quello noi siamo tra le persone più beati nel mondo che conosciamo Gesù e siamo salvati ma se noi rifiutiamo se dice ma non è per me forse non è vero nemmeno se noi stiamo da quella parte siamo dalla parte di Erode e i farisei che volevano a tutti i costi uccidere colui che offriva loro la salvezza preghiamo padre aiutaci nel nel guardare a Gesù nella sua venuta di avere la reazione giusta di non vedere lui come una minaccia ma di vedere lui come il nostro redentore il nostro salvatore che ha dato la sua vita per noi padre prego se c'è qualcuno che ancora vede Gesù da lontano vede Gesù dagli occhi di uno che non crede che possa presto avvicinarsi a lui e riconoscere lui come il Signore salvatore della sua vita per poter entrare a far parte della sua famiglia per poter godere tutte le benedizioni che tu hai promesso a noi nel nome di Gesù preghiamo Amen